Una vera e propria corsa contro il tempo che esalta ancora di più il lavoro di medici capaci di scrivere un'importante pagina di buona sanità in Calabria. La notizia positiva arriva dall'ospedale annunziata di Cosenza, teatro di un doppio trapianto di reni su due diversi pazienti. Gli organi sono stati espiantati a Germaneto venerdì mattina e, come vuole il protocollo, il trapianto deve essere effettuato entro 24 ore, condizione questa che ha comportato uno sforzo organizzativo importante da parte dei medici dell'ospedale annunziata di Cosenza. Ricordiamo che prima di effettuare il trapianto deve essere verificata la compatibilità degli organi. I due interventi, uno di seguito all'altro, sono iniziati così alle 19 di venerdì sera per terminare nella notte fra venerdì e sabato intorno alle 3 e mezza. Oltre all'equip trapianti sono stati impegnati anestesisti, nefrologi e strumentisti del blocco operatorio. Gli interventi sono perfettamente riusciti in attesa del decorso post-operatorio. 8 ore e mezza quindi per scrivere una pagina importante di buona sanità e si spera per migliorare la qualità della vita di due pazienti che erano in dialisi.